Coce Belfiore, TRG Sabbia ha colpito l'obiettivo Salvizza? Sì, abbiamo lavorato tantissimo, la soddisfazione è enorme averlo fatto con quattro giornate d'anticipo e sopra le aspettative rispetto a quella che era la situazione di novembre e dicembre, quindi possiamo essere ben contenti dell'obiettivo ottenuto. Una squadra che è cresciuta, un bilancio di quest'anno, si aspettava una crescita repentina soprattutto nella seconda parte di campionato della squadra? Sì, non così veloce perché comunque qualche problemino a inizio anno l'abbiamo avuto, abbiamo fatto un cambio importante dopo quattro giornate in un ruolo chiave come quello di un esterno, insomma del playmaker. La fase di adattamento è durata meno di quanto ci si potesse aspettare e soprattutto i risultati che sono venuti dopo le prime quattro giornate dicono che questa è una squadra con al momento un record superiore, ben superiore al 50% delle partite vinte al primo anno, insomma possiamo essere ben felici. Chiaro, ne riparleremo proprio alla fine del campionato perché comunque rimane la possibilità e bisogna lavorare in funzione di questo primo posto che vorremmo tenere fino alla fine, quindi comunque non bisogna smettere di lavorare, mancano ancora tre partite. Tre partite che saranno giocate con maggiore tranquillità da parte delle ragazze, ci sarà il calo psicologico? Speriamo di no. Sì, è chiaro, dobbiamo lavorare in funzione del fatto che il risultato ottenuto può venire naturale, calare un po' di intensità ma penso che dobbiamo dare l'ennesima prova della crescita dal punto di vista soprattutto psicologico e mentale da parte nostra, del gruppo, quindi l'obiettivo sarà di continuare a giocare sugli standard che abbiamo mantenuto da ormai mesi a questa parte. Ogni giocatrice ha fatto il suo ruolo ma la Voinova ha raggiunto degli obiettivi importanti in questo campionato, soprattutto nell'ultimo incontro con Muggia. Diana sicuramente ha dato prova di essere una giocatrice che può spostare quando vuole gli equilibri in questa categoria. Sono ben felice per lei e soprattutto sono ben felice del fatto che all'interno di un obiettivo di squadra continuiamo a perseguire e in tal unica se abbiamo ottenuto dei risultati anche individuali di crescita personale di tutte le atlete. Non voglio nominare nessuno in particolare per non far torto a nessuna delle ragazze ma penso che sia evidente una crescita sì del gruppo ma anche e soprattutto individuale delle singole atlete all'interno del nostro sistema. del resto era un obiettivo dimostrare che le giocatrici che ci hanno portato qui e poi lo zoccolo duro è rimasto quello da una stagione all'altra. Nel caso di alcune giocatrici molto giovani penso ci sia stata la dimostrazione di poter appartenere a questa categoria con grande orgoglio facendo delle cose buone in tal unicasi ottime e quindi possiamo essere ben felici tanto dell'obiettivo di squadra quanto dell'obiettivo individuale di crescita delle singole atlete. A proposito della crescita di che cosa ancora ha bisogno TRG Sabbia per non rischiare l'anno prossimo di giocare nuovamente nella pool retrocessione? Ci sarà tutto il tempo di analizzare quelle che poi saranno le situazioni future forse è assolutamente prematuro parlare di quello che sarà perché comunque c'è un campionato da portare a termine, una posizione da mantenere e soprattutto bisognerà capire quale sarà il regolamento e quale sarà la nostra idea rispetto a come portare avanti poi questo gruppo e quali saranno poi gli obiettivi futuri sicuramente ci sarà tempo di mettersi a tavolino. Da allenatore sento di dover dire che è giusto che si pensi prima a giocare queste tre partite al 150% come abbiamo sempre fatto durante l'anno e poi insomma vedremo vedremo quello che sarà il futuro di sicuro ora ci godiamo il risultato sperando di coronarlo con altre vittorie e poi guarderemo avanti più in là.